Marco, che devi fare con la carta igienica? Arrivo, arrivo, arrivo Paola. Che fai con la carta igienica? Ah no, con la carta igienica, no io investo, sto investendo. Investo sulla carta igienica Paola, è il migliore investimento del momento la carta igienica, non lo sapete? Perché la posta ti dà l'1%, la banca lo 0,5%, i botter 3%, addirittura il mattone ti dà il 15%, la carta igienica ti dà il 23%, pulito però Paola. Pulito. L'avete capita voi? Fata scappio ritardato, no veramente mi ero distrazione. Io lo so che non hai capito. Ormai si vede dall'aspetto, si vede dall'occhio.